Per la prima volta, mi dicono, in un servizio, una telecronaca, una ripresa diretta di Formula 1 viene irradiata contemporaneamente in 15 paesi di più continenti. Praticamente tutti i paesi europei, la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l'Auta, le tre televisioni svizzere, in telecronaca differita, per orario, mediamente dalle 10 alle 4 ore, in telecronaca differita altri 10 paesi che portano il numero dei paesi collegati con Imola a 24, addirittura con Australia, Nuova Zelanda, Ecuador e Costa Rica. È passato Piquet davanti a Reutemann. Si parlava di Piquet ed ecco che Piquet ha conquistato la quarta posizione. Evidentemente Patrese si ritiene pago di questo risultato della bellissima corsa alla rimonta che ha fatto.